Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Un promotore anticiclonico si protende dal Mediterraneo occidentale verso l'Europa centrale determinando condizioni di stabilità sulla Liguria. Tuttavia la presenza di una profonda saccatura sul Atlantico favorisce un richiamo di aria umida nei bassi strati sul Ligure con un progressivo aumento delle nubi da martedì associato a possibili deboli precipitazioni più probabili e diffuse mercoledì sul settore centrale. Il dettaglio oggi lunedì 19 ottobre a un iniziale nuvolosità regolare per addensamenti nei bassi strati seguiranno progressive schiarite lungo la costa seppur in presenza di passaggi di nubi alte non si escludono isolati rovesci in particolare nell'entroterra di Ponente. Venti deboli a regime di brezza di direzione variabile mare poco mosso temperature massime stazionari e lungo la costa tra 19 e 21 gradi nelle zone interne tra 15 e 18 gradi. Domani martedì 20 ottobre un flusso umido meridionale nei bassi strati favorisce la formazione di nubi marittimo costiere più consistenti sul settore centrale della regione dove saranno possibili deboli piovaschi. Venti inizialmente deboli in regime di brezza o variabili dalla tarda mattinata tendenti a disporsi dai quadranti orientali in generale rinforzo fino a moderati. Bare poco mosso quasi calmo al mattino in aumento dal pomeriggio fino a localmente mosso in serata. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 10 e 13 gradi nelle zone interne tra 4 e 6 gradi, massime in diminuzione lungo la costa intorno a 19 e 20 gradi nelle zone interne tra 15 e 17 gradi. Dopodomani mercoledì 21 ottobre una persistente avvezione di aria umida sudorientale comporterà cielo coperto con deboli piogge sul centro ponente molto irregolarmente nuvoloso sugli estremi della regione. Venti tra deboli e moderati sudorientali sul centro levante, moderati nordorientali a ponente e in rinforzo nel pomeriggio con raffiche fino a 40-50 km orari da nord-est sui capi esposti del ponente. Mare in aumento a mosso dalle prime ore della notte, molto mosso per onde da sud-sud-est dalla tarda mattinata sul centro ponente, solo localmente a Levante. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 12 e 15 gradi nelle zone interne intorno a 9 e 10 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 18 e 20 gradi nelle zone interne tra 14 e 17 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!